Bene amici, due ultimissime ore. Prima cosa, IMSS e Poste hanno pubblicato l'avviso ufficiale per il ritiro e il pagamento delle pensioni di marzo 2023. Ma soprattutto, è vero che con la prossima pensione di aprile ci saranno ben due nuovi aumenti? Un 2% in più per chi abbia un lordo fino a 2.692 euro e il doppio bonus minime? Beh, vi spiego tutto per bene dopo la sigla. Prima di partire però mi raccomando, un bel like, io sono Mr. Lullo, sigla! E partiamo con marzo, pagamenti ovviamente il primo marzo sia per conti correnti bancari che postali, mentre per i contanti allo sportello, dal primo marzo lettere dalla A alla C, fino al 4 marzo lettere dalla Q alla Z. E perché però a marzo, caro Alessandro, io non ho ricevuto tutti quegli aumenti con arretrati che sono stati tanto sbandierati? Beh, perché ragazzi, ricordatevi che chi abbia un lordo inferiore a 2.101 euro ha ricevuto la sua perequazione giusta aspettante già a gennaio 2023. A proposito di perequazione, veniamo agli aumenti con esempi, aumenti tra virgolette, di aprile. Ascoltatemi con estrema attenzione. Per prima cosa, i pensionati al minimo sapete che ancora attendono il doppio bonus rivalutazione che porterà la minima da 560 euro a 571 o 600 euro per chi sia over 75. Cosa manca ancora? Manca la circolare dell'Inps o un messaggio dell'Inps che comunque possa andare a chiudere il cerchio proprio con la prossima busta paga di aprile. Ora, secondo aumento tra enormi virgolette, o meglio, secondo aspetto. Ecco, caro Alessandro, visto che Inps a gennaio non mi ha riconosciuto la rivalutazione intera a causa del recupero dell'anticipo draghiano del 2% decreto aiuti bis, ad aprile mi sarà riconosciuto l'incremento completo con un conseguente aumento quindi del 2% mancante? No e no, perché in realtà Inps, come da disposizione normativa in gazzetta ufficiale, potete controllare l'articolo 21 del decreto, ai fini della rivalutazione dovrebbe aver totalmente ignorato questo anticipo del 2% draghiano. E quindi applicato la perequazione piena, esempio 7-3%, al lordo pensionistico 2022 pulito, scorporando qualsiasi tipo di anticipo, qualsiasi tipo di acconto. Quando dunque fate il calcolo per capire quanto vi sia aumentata la pensione lorda a gennaio 2023, non dovete prendere un lordo 2022 comprensivo di questo 2% di anticipo, altrimenti certamente vi viene un 5-3% e non un 7-3%. Provate invece a prendere il lordo di settembre 2022, in questo esempio 1.787,95. Moltiplicate per 7-3% e vedete che ottenete proprio 1918, che è il lordo di gennaio 2023. Oppure se prendete il lordo di novembre di questa busta, che è comprensivo del 2%, moltiplicate per 5,3% e vedete che fa sempre 1918, perché 5-3 più 2 è sempre 7-3%. Dunque l'importo alla fine è sempre quello. Fate delle verifiche e se avete dei dubbi scrivetemi qui sotto nei commenti, che vi aiuto ovviamente a fare il calcolo. Io spero di aver fatto chiarezza, se è così, se la rassegna è stata utile, mi raccomando un bel like, noi ci vediamo alla prossima, un abbraccio da Mr. Lull. Grazie.